Benvenuti al Foodex 2013, sono Luca Torre e questo è il nostro stand, il stand della Divino. Abbiamo quest'anno diverse cantine, si parte dalla Guido Berlucchi, Franciacorta, poi abbiamo Paolini a Barsala in Sicilia, abbiamo Gerardo Cesari nella Valpolicella e Dulcis in fundo Vigna Alta nei Cogli e Uganei. Quest'anno come tutti gli anni è stata una grossa affluenza di pubblico, come vedete si beve, si assaggiano vini che spaziano un po' in tutta Italia, si parte dalle bollicine della Franciacorta con Berlucchi e si arriva fino al vino passito di Vigna Alta, l'Alpiane, pertanto abbiamo tutte le tipologie di vino. Abbiamo anche una novità assoluta che viene lanciata in Giappone per la prima volta che siamo il primo paese a lanciarla, che è appunto il Ponente. Ecco qui, questo è il Ponente, vi chiederete cos'è il Ponente. Il Ponente non è altro che un areatore per il vino che viene apposto sulle bottiglie quando si va a mescere il prodotto e oltre a salvare la goccia riesce anche a dare un inizio di areazione al prodotto, aiuta moltissimo per la decantazione. Importiamo vini italiani da oltre 20 anni, siamo specializzati in questo mercato e sappiamo che anche quest'anno sarà un anno difficile perché abbiamo un cambio sfavorevole in questo momento, però i giapponesi adorano la cucina italiana, adorano il vino e adorano i nostri prodotti e l'affluenza è sempre altissima, molti curiosi, sono le catene anche di ristoranti che si avvicinano ai nostri prodotti con grande interesse. È sempre bellissimo rappresentare l'Italia lontano, lontani, in Giappone ed è sempre bello vedere quanti giapponesi apprezzano i nostri prodotti italiani. Arrivederci, all'anno prossimo! Arrivederci, all'anno prossimo!